Intanto, buongiorno e bentornati tutti qui in Casa Atlantide. Il lavoro è suddiviso su tre linee parallele, similari, perché quest'anno abbiamo tre tipologie diverse di ragazzi. Abbiamo il gruppo che è rimasto, quindi ha fatto un tipo di lavoro di un certo tipo anche molto importante durante la fase estiva, che partirà con un programma più rivolto a velocità e potenza. Il gruppo di ragazzi nuovi, che va prima testato per verificare il lavoro che ha fatto e come l'ha fatto, che poi partirà a fare il programma dei colleghi. E infine il terzo gruppo diverso, il gruppo di chi quest'estate ha fatto i beach volley, ha fatto i campionati, sta facendo ancora i campionati e quindi avrà anche lui un approccio ai pesi e all'allenamento un attimino diverso per arrivare alla data della prima di campionato, tutti comunque in salute e in forma per scendere in campo agli ordini del coach. Il primo obiettivo che mi do io è che tutti siano sani, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che siano sempre disponibili dal punto di vista tecnico all'allenatore e quindi modulare su ognuno rispetto alle loro qualità e caratteristiche, stato di forma, l'utilizzo dei pesi. Ovviamente più si avvicina al campionato, più vengono lasciate alcune caratteristiche condizionali come la forza pura e si avvicina a tutto quello che va verso la velocità e verso la potenza.